Ciao, vocabolario della lingua italiana, va bene, cito testuali parole. Dicesi incubo, incubo, sogno capace di procurare uno stato di angosciosa oppressione, uso figurato, motivo di assidua intollerabile, preoccupazione o turbamento angoscioso, spesso prolungato ogni tempo, oltre i due anni di contratto, quindi, nello specifico. Milano contro Sassari. Compattezza. Al di là dei 3-0 risultato finale, al di là di quelli che sono state le singoli episodi di questa serie, la sensazione che io ho avuto è che questa Milano, all'interno di questi play-off, ci sia proprio dentro, con la testa. Per me, per me, oh, per me, per me, non cominciamo neanche, per me, opinione mia personale, questa squadra è meno forte di quella dell'anno scorso, questa squadra senza mito, glu, è meno forte di quella dell'anno, per me, per me, di quella dell'anno scorso. Però, a differenza di quella dell'anno scorso, mi sembra un po' più gruppo, un po' più squadra. In questo ci vedo tanti meriti del Poz, se ne è parlato tanto negli ultimi giorni, proprio come figura all'interno dello spogliatoio è stato preso per questo, non c'è niente da fare, e anche tanti meriti della decisione di Ettore Messina di fare chiarezza all'interno delle rotazioni. Cioè, di fatto, chiudere a un certo punto il turnover e dire, va bene, noi siamo, perché succeda, noi siamo questi qui. E questa è una cosa che io, come sapete, apprezzo particolarmente. Perché? Al di là di quelli che sono, cioè, voglio dire, Shields e Shields, no, Shields e Shields. Io mi ricordo, a un certo punto, in gara 2, in gara 2, credo, stava difendendo su Robinson. Era proprio inviato speciale in minzione su Robinson. A un certo punto, cambio difensivo accettato, lui finisce su Bilan e gli porta via i palloni. Quindi vuol dire che nella stessa azione, all'interno di pochi secondi, lui ha marcato il play e il centro. Questa cosa qui ti permette fondamentalmente di marcare 5 posizioni e è anche quasi sempre uno dei migliori realizzatori della squadra. Quindi che gli vuoi dire a Shields, no? Quindi Shields e Shields. Rodriguez, per quanto non sia il mio giocatore preferito, però comunque sia, è i Ciacio e Rodriguez. La tripla che di fatto ha chiuso le speranze della Dinamo, in generale l'ha messa lui, perché comunque è i Ciacio e Rodriguez. Però altri giocatori che normalmente erano un po' spersi all'interno delle rotazioni, con questa idea da parte di Ettore Messina, come conseguenza di questo chiudere, bloccare il turnover, secondo me stanno rifiorendo. Baldasso in primis. Ragazzi, Baldasso è, a tutti gli effetti, l'acquisto di Milano per questi play-off. Che se ne dica, ma al di là proprio dei punti, al di là del fatto che è stato il miglior realizzatore di gara 3, cioè c'è proprio dentro di... è un componente importante a questo punto, ha fatto a cazzotti con di hop, cioè, capito, c'è anche un po' di presenza. Lo stesso Grant, vada, ti dirò, tutto sommato, nell'inutilità diffusa e generalizzata di giocatore, però, messo in missione speciale difensiva contro Logan, l'ha tenuto, cioè, si è ritagliato un suo spazio all'interno, no, di questa squadra. E si potrebbe chiudere qui il discorso. Poi però, siccome voglio essere particolarmente sicuro che la Lega Basket continui bellamente a ignorarci, aggiungo anche, perché questo la Lega Basket non gli garba, non vuole e si aggiunga questa roba qui, non gli garba, ma io lo devo dire, aggiungo anche che, utilizzato da specialista difensivo, è forse il più caro specialista difensivo della storia di campionato, eh, Grant, eh, va detto, però. Così come Baldasso, che sta giocando molto, fa cardo, oggi si vede un forte ripigliaffiato, perché fa un cardo e ci stianta. Baldasso, dicevo, che comunque sta avendo un impatto, è anche vero che qualsiasi cosa avesse fatto sarebbe comunque risultato meglio di Dileni, ti è capito? Anche se stava fermo in una, se si metteva fermo in un angolo già a Tappini con Fiero Guerriero, lì, era comunque meglio di Dileni. Zero rimpianti. La Dinamo ha perso 3-0. Di fatto non è quasi mai riuscita a far paura a Milano, neanche nel momento in cui la Serie si è trasferita e si è spostata al Palacerra di Migni, però, sinceramente, ma anche chi se ne frega. Parliamosi proprio chiaro. La Dinamo è arrivata in semifinale, di fatto nel campionato delle squadre normali si sarebbe giocata la finalissima con Tortona e sarebbe stata una gran bella Serie, se ce l'avessero data, chiaramente non era possibile per gli incastri delle posizioni in classifica, ma sarebbe stata una gran bella Serie e non lo so chi è che l'avrebbe spuntata. Ragazzi, secondo me Sassa riesce da questo campionato con zero rimpianti. Se si pensa a come era iniziata la stagione, se si pensa a tutte le incertezze che c'erano a inizio anno, se si pensa al fatto che nel momento in cui gli è risalita la gioventù in cui secondo quarto di gara due, comunque sia a Milano un pochino di paura gliel'hai fatta quando è risalita la gioventù a Logan, intendevo. Se si pensa che comunque a Sassari in gara tre gli hai fatto levare la giacca a Messina già subito nel primo quarto, insomma delle soddisfazioni nel suo piccolo se le è tolte la Dinamo. Ora c'è un po' di incertezza, perché banalmente non si è capito benissimo ancora che futuro ci sarà con o senza Stefano Sardara, però ci sono anche tanti principi cardine da cui ripartire. Primo tra tutti prolungamento di Benzius, annunciato proprio ieri sera, fino ai 2025. E mettilo lì, mettilo lì. C'erano anche delle grandi squadre, anche più grandi della Dinamo su Benzius. Secondo me ottima mossa riuscire a blindarlo, tra l'altro fino ai 2025, anno in cui curiosamente scade anche il contratto di Stefano Gentile. Si sarà riuscito a pigliargli spadino di qui allora. Virtus Bologna contro Tortona. Il contrario preciso rispetto a quanto detto sopra dall'Olimpia Milano. Cioè questa squadra, secondo me, è più forte, ma forse anche senza il secondo me. Cioè sulla carta è più forte rispetto a quella dell'anno scorso. E questo invece sì, secondo me, è la più forte in Italia e una delle più forti d'Europa. Oggi, io lo dico, me ne assumo, secondo me così è. Però all'interno di questi playoff l'ho vista un pochino, leggermente più, no? Rispetto a Milano, leggermente più in difficoltà. Contestualizziamo il tutto. Si parla sempre comunque di percorso netto. Cioè siamo arrivati a avere due squadre in finale che non hanno perso neanche una. Quindi le difficoltà, cioè capiamo sì, no? Però all'interno del percorso, comunque penso a gara 1 contro Tortona, qualche lieve scol... piccola, piccola, leggera, però rispetto a Milano qualche cosa un pochino. Per il resto, ragazzi, questa squadra non ha punti deboli. Proprio perché sono talmente tanti che quelli che sono i limiti di un giocatore, comunque sia ce n'hai due o tre che li possono sopperire in qualche modo. Sono 17 giocatori da Serie A, se non vado errato, l'avevo contato un po' di... Penso sia un record in senso assoluto. Forse solo questo potrebbe essere, no? L'interrogativo, cioè la capacità di gestirne così tanti. Ci sono gli infortunati, però gestirne così tanti non è semplicissimo. Io, per esempio, non ci tirerei fuori le gambe. Questa però è anche il marchio di fabbrica proprio di Sergio Scariolo. Storicamente, no? Sergio Scariolo nella gestione dei gruppi numerosi, io e Sergio Scariolo penso che la differenza sia proprio riassunta anche proprio dalla capigliatura. Proprio in maniera palpabile, visibile. Lui tutto preciso, ingellato, incollato, non gli parte, tutto che pare un cabbiccasco. E io, in queste condizioni qui, pochi, radi, fini, messi male, spettinati, accardati... Cioè, onestamente, sinceramente, no? Io sto seriamente pensando di adottare una soluzione fascetta alla scenghelia, detto proprio. Lo dichiaro, lo dichiaro pubblicamente, in modo tale che tutti voi possiate essere avvisati e possiate, conseguentemente, disiscrivervi in massa e in tempo, eh? Genuino! L'aggettivo che mi viene in mente quando penso al progetto di Tortona, che si rifà proprio in primis alla figura dell'allenatore di Tortona, nel senso migliore e più sportivo del termine. Il progetto di Tortona è una gran bella realtà che, stando a quello che si dice, nel corso delle prossime stagioni si discuterà sempre un po' di più, cioè dovrebbe essere sempre un po' di più all'interno delle cronache e della pallacanestro. Questo perché è una di quelle piccole e grandi realtà che hanno ambizioni, pare anche soldi e progetti seri e genuini, per l'appunto. La storia del basket italiano si fonda sulle piccole realtà, eh? Poi c'è anche Milano, c'è anche Bologna, che comunque, no? Grandi città, però le piccole realtà sono quelle che poi, alla fine della fiera, nella pallacanestro... C'è un episodio, se no poi mi delungo a chiacchia, c'è un episodio di gara... ora ci ho fatto capo, perché alla fine, e poi sono passati dei giorni, dovrebbe essere, sì, gara 3, l'ultima partita, in cui la Virtus parte fortissima, tipo 15 a 3, 18 a 3, cioè parziale, e tra le mosse di reazione di Ramondino c'è quella di togliere Machiura, che non la prende bene, ma manco di peridea, e gliene dice quante ne sa. E i due continuano a battibeccare, continuano proprio a pigliarsi a male parole, ma in maniera proprio accesa davanti a tutti, pubblicamente, con le telecamere che li vanno a cercare, per tutto il tempo in cui Machiura piano piano scorre, scala tutta la panchina e si mette a sedere, e continuano a chiacchierare in maniera proprio... qualcuno dice, è però, è un episodio che non andava portato alla luce, cioè se ci sono delle discrepanze, se ci sono dei motivi di discussione, le devi tenere per lo spogliatoio, oltre a non picchiettare il microfono, non lo puoi far vedere, perché dai proprio il senso che allora ci siano dei problemi di sottofondo, dice qualcuno. Qualcun altro dice, è però Machiura doveva riconoscere l'autorità dell'allenatore e doveva farla finita, perché se no sfoci nella mancanza di rispetto, soprattutto a livello pubblico. Qualche altro ancora dice, però Ramondino doveva capire che nell'agonismo, nella foga di momento, il giocatore a volte si lascia un po' andare, quindi doveva in un certo senso essere superiore e fa finta di non sentire, lasciarlo sfogare in sottofondo e no. Io dico invece no. Secondo me è una bella cosa. Così come dissi a suo tempo, mi sembra settimana scorsa, per Robinson Bucchi, secondo me questi sono episodi che non vanno nascosti, perché quando vengono fatti, quando nascono soprattutto tra due persone, prima ancora che tra due professionisti che hanno il tipo di rapporto che hanno Machiura e Ramondino, ben vengano, ce ne fossero, sono momenti di costruttività per la squadra, è il sale del nostro sport, ragazzi, è inutile cercare, è bello così, tanto è vero che poi Machiura è rientrato in campo, subito dopo è stato il migliore in campo di Tordona, anche nella sconfitta. Tanto è vero che Machiura è già stato rinnovato, tanto è vero che lo stesso Ramondino è già stato rinnovato, tanto è vero che, proprio per parlare anche a lungo termine, i dirigenti di Tordona, notizia di oggi, si sono incontrati o i vertici dell'Eurolega per parlare così intanto del futuro, per vedere. Ragazzi, non c'è niente da fare. Quando distribuivano la progettualità, Tordona era in fila e teneva il posto anche a Gandini. Tordona era in fila, non c'è niente da fare. Al prossimo episodio